buongiorno penso buongiorno sono a tagliare una bistecchina di scottuna perché anche in un periodo come questo abbiamo bisogno di almeno mangiare che sia di qualità e in questa occasione vi voglio dire oltre ad essere aperti sempre naturalmente tutti i giorni se voi avessi bisogno di avere la spesa a casa chiamate perché noi vi si porta a qualsiasi ora siamo sempre pronti in tutta sicurezza che si porta a casa e chiaramente la conoscete la scottona la mia cucina trattiamoci bene in questo periodo di cove almeno mangiare cerchiamo di mangiare bene che fa bene a noi va bene alla alla morale fa bene a tutto anche alla salute e con l'occasione vi vorrei augurare delle buone feste e in famiglia in serenità perché l'abbiamo tanta bisogno e niente con la mia cittina di qualità vi aspetta quando volete